Per uscire dagli stereotipi con cui si parla di infanzia e affrontare scientificamente questioni troppo spesso tagiute, Unical ed Unicef propongono il sesto CUMED, corso multidisciplinare di educazione e diritti, che si compone di un ciclo di dieci seminari. Il corso, che riprende dopo due anni di assenza, ha per tema azioni e strategie innovative per un'uguaglianza possibile ed è rivolto agli universitari dell'Unical, agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori, agli educatori e ai docenti. Durante i seminari si tratteranno diversi argomenti, come l'impatto dei bambini con le nuove tecnologie, la vita dei piccoli musulmani ed ancora si parlerà di ciò che accade ai minori immigrati o a quelli che vivono le emergenze nei propri paesi. Saranno al centro del corso anche i temi della mortalità infantile, l'istruzione e la struttura delle città costruite a misura di bambino, nonché dell'importanza della vaccinazione. I giovani siano molto interessati al sociale e che la loro presenza qui oggi testimonia proprio che, nonostante, come lei diceva, l'accesso a tante informazioni, vogliono affiancare alle informazioni la formazione. E questo sarà qui possibile perché siamo riusciti a mettere insieme un programma che io rispetto al cuore sono molto soddisfatta perché avremo diversi colleghi universitari e nonno che parleranno di aspetti di strettissima attualità che riguardano appunto i bambini e gli adolescenti.